Le meningi sono una potenziale fonte di nuovi neuroni per il cervello. È quanto scoperto da una ricerca ideata da Ilaria Decimo, ricercatrice di farmacologia del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell'Università di Verona e da Francesco Bifari dell'Università Statale di Milano. Lo studio, che ha coinvolto anche istituti di ricerca internazionali, potrebbe assumere un significato molto importante per lo sviluppo di terapie per la cura di malattie neurodegenerative, come ci spiega Ilaria Decimo. Abbiamo dimostrato che nelle meningi, che sono le membrane che ricoprono il cervello, esistono delle cellule staminali neurali, cioè delle cellule che sono in grado di fare nuovi neuroni. Queste cellule, infatti, dopo la nascita, aggiungono nuovi neuroni nel cervello. La nuova sfida adesso è capire come sfruttare la capacità di queste nuove cellule che abbiamo trovato di generare neuroni per riparare i neuroni che sono danneggiati nel cervello e nel midollo spinale nelle malattie neurodegenerative, quali, per esempio, la lesione del midollo spinale, l'Alzheimer, la sclerosi multipla, l'ictus. Ilaria Decimo lavora a Verona con il suo gruppo di ricerca della sezione di farmacologia, diretta da Guido Fumagalli. È importante poter fare ricerca perché solo attraverso l'innovazione scopriamo cose nuove, ma soprattutto, ed è oramai quasi la quotidianità nella ricerca, ci rendiamo conto che più che scoprire cose nuove abbiamo bisogno di correggere visioni sbagliate. Lo studio della Decimo è un esempio, si è sempre detto che il cervello è quello che ha la nascita e dopo non cambia più, anzi, si invecchia nel momento in cui si nasce. No, non è vero, la Decimo ha dimostrato che invece il cervello si forma anche dopo la nascita. Non è vero che sappiamo tutto, noi sappiamo pochissimo e buona parte di quel che sappiamo poco probabilmente lo sappiamo anche sbagliato. Quindi fare ricerca significa sapere sempre meglio, sapere sempre di più, saper sfruttare meglio ciò che la natura ci ha messo a disposizione.